Da tempo si vocifera di un secondo bebè in arrivo per Vieri e sua moglie Costanza Caracciolo. Loro non smentiscono, ma le immagini che arrivano dal compleanno della piccola stella non fanno che alimentare i rumor. Negli scatti social infatti c'è un dettaglio che non passa inosservato. Sotto l'abito morbido di Costanza spunta un pancino sospetto. E proprio in questa occasione l'ex velina ha voluto dedicare un pensiero sui social alla figlia e alle emozioni che le ha regalato finora. Un anno fa sei nata tu mia piccola stellina, ti dico grazie perché hai riempito la mia vita di amore e di emozioni incredibili. Costanza ha speso anche parole profonde per il marito Cristian Vieri, che sembra essere un papà impeccabile. Aguri al papà migliore del mondo e grazie per aver deciso di condividere questa meravigliosa esperienza con me.